L'Asticunio è un'autostrada, è un asse strategico per questo territorio, ricordo che la presenza industriale in questo territorio è sicuramente uno dei punti di forza, così come adesso grazie a Dio anche la trazione turistica e la vocazione turistica legata a tutto il tema della qualità dell'agroalimentare. Bisogna sbloccare il completamento dei lotti che rendono assolutamente finalmente fruibile l'Asticunio e il collegamento complessivo con tutte le reti autostradali. Il sistema delle imprese paga purtroppo da sempre un gap di competitività a causa della mancanza di realizzazione delle infrastrutture, noi valutiamo un 20-25% di costi in più che le imprese italiane, piccole, medie o grandi sostengono, quindi la realizzazione delle opere già programmate che sono strategiche è un impegno fondamentale, adesso mi sono state fatte ulteriori segnalazioni, nei prossimi giorni faremo le ulteriori verifiche e collaboreremo il Ministero dell'Ambiente e il Ministero delle Infrastrutture come abbiamo fatto in altri casi per dare risposte fattive.